primo classificato sei punti al secondo quattro punti al terzo due punti e alla quarta classificata un punto mancano due gare alla fine questa è la prossima allora i primi due marina di fondi contro cucuruzzo e poi santa trita contro san raffaele allora siamo pronti manca il concorrente no no c'è c'è facciamo una rullata facciamo una rullata sono partiti vabbè alla prossima cucuruzzo vince questa mancia allora è la volta adesso dei due concorrenti santa trita contro san raffaele partiti vincono i gialli di santa trita allora la finale sarà tra cucuruzzo e santa trita allora andiamo per la finale terza e quattro posto san raffaele e marina di fondi allora andiamo per la finale aspettate il concorrente di santa trita voleva portare a casa il testimone come appunto trofeo allora via con la finale del terzo e quarto posto tra san raffaele e marina di fondi aspettate aspettate partiti peccato per il concorrente della marina di fondi che cade e vince quindi san raffaele che per il momento è terza anzi è terza adesso c'è la finale per il primo e secondo posto tra il cucuruzzo e santa trita vediamo chi è la contrada che vincerà questa gara la gara della corsa staffetta grazie 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 Vince Santa Trita, il punteggio sarà il seguente, allora due punti a San Raffaele ed un punto a tutte le altre tre contrade. Allora i giocatori sono otto i concorrenti di cui quattro maschi più quattro femmine. Il campo di gara a lunghezza di metri cinque. All'inizio del campo di gara sarà disposta una bacinella contenente acqua con dieci mele posizionata su un tavolo. Alla distanza di cinque metri invece un contenitore vuoto. Questo lo svolgimento. I concorrenti dovranno afferrare solo con la bocca le mele disposte nella bacinella con l'acqua e traspostarle nel contenitore vuoto posizionato alla fine del percorso. E' vietato toccare le mele con le mani. Se la mela cade non può essere recuperata ma sarà necessario ritornare indietro e prenderne un'altra. Vince la Condrata che avrà recuperato il maggior numero di mele in due minuti e nelle due manche. Per ex equo si attribuisce lo stesso punteggio. Allora ripeto questa è l'ultima gara. La gara con le mele. Sono otto i concorrenti. Quattro maschi più quattro femmine. Bisognerà prendere le mele nella prima vaschetta con la bocca e portarle nella vaschetta vuota. Chi ovviamente riuscirà a portare più mele vincerà alla gara. Al primo classificato sei punti. Al secondo quattro punti. Al terzo due punti. Ed un punto all'ultimo classificato. Via. Grazie. Via. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Secondi Cucuruzzo con 19 mele e primi classificati San Raffaele 20 mele. Grazie a tutti. Ed ora è la volta della seconda mancia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.